Salve, sono Marcello Bravo Pereira, autore del libro Cristianesimo dall'essenza della fede all'esistenza cristiana, introduzione generale alla cosmovisione cristiana. Adesso affrontiamo gli atteggiamenti possibili di fronte al problema di Dio e della religione. Di fronte alla proposta religiosa si possono assumere varie posizioni. La più comune è quella di un'adesione vaga all'esistenza di un essere superiore che si invoca in momenti di difficoltà. Ma prima di analizzare l'atteggiamento positivo di fronte alla religione, passiamo in rassegna altri modi di confrontarsi con la proposta religiosa. Un atteggiamento molto diffuso è conosciuto come agnosticismo. L'agnostico ritiene che non sia possibile dare una dimostrazione sufficiente per poter affermare con sicurezza l'esistenza di Dio. Ma non si chiude di fronte alla possibilità della sua esistenza. Credere in Dio è una questione di scelta personale o di gruppo, senza che ci siano prove né a favore né contro la sua esistenza. L'agnosticismo può essere speculativo, se consapevole e ragionato. Un esempio di agnosticismo speculativo l'abbiamo nella celebre frase di Wittgenstein, che abbiamo citato in precedenza. Ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Infatti per l'agnostico Dio è al di sopra delle cose che cadono nella nostra conoscenza. Noi, più avanti, affermeremo che l'esistenza di un essere superiore può essere dimostrata a partire dalla considerazione delle cose create. Ma la sua essenza ci trascende completamente. In questo senso nel pensiero cristiano esiste una dimensione agnostica, nel senso che si riconosce che Dio non può essere rinchiuso nel linguaggio e nel pensiero umano. L'agnosticismo può essere pratico, quando siamo di fronte a delle persone che hanno risolto il problema di Dio non considerandolo, vivendo come se Dio non esistesse, et si Deus non daretul. Non si nega né si afferma se Dio esista. Semplicemente si vivono le realtà quotidiane senza prorsi il problema. Un altro atteggiamento è l'irreligiosità. L'attenzione qui è rivolta non tanto a Dio quanto alla religione. Si può credere in Dio senza sentirsi attratto da alcuna religione particolare. Si può affermare che ogni religione è ugualmente valida per i propri addetti, ma non necessaria per la vita. Questa irreligiosità può essere dunque non polemica. Non ci si sente identificati con un credo religioso, ma non si esclude una fede semplificata nell'aldilà. Può essere anche polemica. L'irreligioso polemico concepisce la religione come una forma culturale da combattere. Vedrà la religione come la causa dei mali, dell'uomo, delle guerre, ecc. Neanche questo irreligioso negherà Dio, ma se la prenderà con coloro che pretendono di parlare nel suo nome. Una buona parte degli atei, in fondo, sono irreligiosi. Finalmente abbiamo l'ateismo. L'ateo è colui che afferma con fermezza la non esistenza di Dio. Anche con l'ateismo è necessario fare delle distinzioni. Infatti abbiamo l'ateismo speculativo. Esso può essere il materialismo dialettico, teorizzato da Marx, per cui la materia si è evoluta in base al movimento dialettico di tesi, antitesi e sintesi, come un processo di autosuperamento tramite il conflitto che fa saltare le contraddizioni interne della storia. Abbiamo inoltre il materialismo scientifico. Esso ritiene che la scienza abbia reso vano il ricorso all'esistenza di Dio, in quanto essa può risolvere i problemi che facevano sorgere la questione religiosa. Sia la scienza fisico-matematica, sia quella biologico-evoluzionista, hanno reso innecessaria la spiegazione teologica della realtà. In fin dei conti, Darwin avrebbe dimostrato che gli animali non furono creati così come li conosciamo a partire dal quinto giorno della creazione, bensì migliaia di migliaia di anni si sono evoluti trasformandosi di specie in specie fino allo stato attuale. Ergo, Darwin ha ragione, mentre la Bibbia sbaglia. Questo ateismo può restare a livello intellettuale, ma può anche diventare militante. In tal caso si intreccia con l'irreligioso polemico. Tante volte, però, l'ateo militante, a differenza di quello speculativo, non ha ragionato sufficientemente sulle proprie posizioni, utilizzando argomenti banali per ridicolizzare la credenza religiosa e mantenendo un atteggiamento fondamentalista nei confronti dei propri presupposti atei. Una buona parte degli atei militanti non sarebbero in grado di difendere dialetticamente il proprio ateismo. Pertanto possiamo, a ragione, chiamarli atei fondamentalisti. Oltre alla negazione di Dio, viene con l'ateismo l'affermazione del valore supremo dell'uomo, alienato da ogni condizionamento. Ci riferiamo al cosiddetto umanesimo nel senso sartriano del termine. Infatti, per Jean-Paul Sartre, l'ateismo è un umanesimo. Negando Dio, si pretende di esaltare l'umano. Secondo Jean-Danielou, un teologo del Concilio, alla base dell'ateismo sta l'affermazione che l'uomo è veramente e pienamente se stesso soltanto quando viene assunto come valore supremo. Il riconoscimento di una trascendenza sarebbe di per sé un'alienazione. Cito Tutta quella corrente di pensiero atea, che va da Feuerbach a Sartre e al marxismo contemporaneo, si basa su questo falso presupposto, che vede nella negazione di Dio l'espressione suprema dell'emancipazione dell'uomo e pensa che un autentico umanesimo non possa abbassarsi che sulla morte di Dio. Finicitazione L'ateismo può essere anche pratico, in tal caso si può ricondurre alla frase che abbiamo usato per l'agnosticismo. L'ateo pratico vive et si Deus non daretur, come se Dio non esistesse. Così come abbiamo detto riguardo alla religione, il fenomeno dell'ateismo non è da attribuire ad un gruppo particolare di persone. È vero che tra gli scienziati, in particolare tra i biologi, c'è un alto indice di ateismo, o piuttosto di religiosità. Una buona parte di essi sono agnostici. Ma nonostante sia vero tutto questo, troviamo tra gli scienziati più importanti del mondo delle persone profondamente religiose. E questo fattore di fede non ha assolutamente ostacolato la loro ricerca scientifica. Ciò che traspare da tutto questo è che la scienza di per sé non è nemica della fede, ma riguarda ambiti diversi della conoscenza della realtà. È molto difficile trovare un vero ateo, un ateo che possa giustificare razionalmente il proprio teismo, perché certamente gli atei fondamentalisti sono numerosi, ma essi non hanno vere ragioni per esserlo. Chi si dichiara ateo può, più che rifiutare l'esistenza di un primo principio, di un logos ordinatore, rifiuta l'immagine antropomorfizzata di un Dio che è stato presentato come il babbo della bianca e lunga barba, come il creatore che modella con le mani l'argilla, o come il papà providente e invadente che premia o castiga a seconda del nostro comportamento morale. Ma tutte queste immagini sono simboli per rappresentare ciò che trascende la realtà e non la realtà in sé. In opposizione agli atteggiamenti precedenti abbiamo il fenomeno della credenza religiosa, oppure della fede nell'esistenza di Dio e la conseguente affermazione del valore della religione per la vita dell'uomo e della società. Anche qui bisogna fare però delle distinzioni. Non ogni atteggiamento di fede è lodevole o accettabile. Davanti al fatto religioso si può avere una fede fideista fanatica. Il fideista fanatico non ragiona, accetta e obbedisce a tutto ciò che gli chiede la propria religione. Sia pure immolarsi o uccidere delle persone. Il fideismo religioso è prevalente in alcune religioni di tipo fondamentalista, ma anche in certe comunità evangeliche. A Lutero non interessava sapere chi fosse Gesù nella sua essenza. Non interessava cosa fosse Gesù in sé stesso, ma la sua funzione, il fatto che sia il suo salvatore e il suo redentore. Orbene, la fede fideista in Gesù, che prescinde dall'interrogarsi sulla natura del salvatore, facilmente cade in fanatismo, dal momento che, non avendo più i motivi per accettare Gesù come salvatore, perché figlio di Dio e non un semplice uomo, ci sarà una chiusura alla stipinta naturale dell'uomo, che è quella di ragionare e di domandarsi. Il comandamento principale del fideista sarà «Credi senza ragionare». Un'altra forma insufficiente di fede è quella che si trova agli antipodi del fideismo fanatico, ossia la fede relativista-irenista. Il credente relativista non avrà problemi ad accogliere le altre credenze religiose, anche se le loro dottrine sono in aperta contraddizione con la propria fede. In fondo, il credente relativista riduce l'esperienza religiosa alla sfera del sentimento. Le dottrine non hanno valore per il relativista. Esse sono narrazioni simboliche di esperienze inefabili e quindi funzionali per il devoto, che non chiede la verità ma il fervore. La visione cristiano-cattolica della fede, come abbiamo spiegato prima, prende in considerazione le due ali della conoscenza, la fede e la ragione, in un tentativo di armonizzare il sentimento religioso con la ricerca della verità sull'uomo e su Dio. L'atto di fede, affinché sia degno dell'uomo, deve essere ragionevole e motivato. Ed è assolutamente ragionevole che ci siano cose che superino la nostra capacità di conoscenza, che ha dei limiti ben precisi. Queste verità, alle quali non ci si può arrivare con la ragione, si possono in qualche modo scorgere da una testimonianza che viene dall'alto. E qui finiamo questo capitolo. Ci vediamo nella prossima puntata.